E' un piacere ritrovarvi in questo secondo contenuto di giornata. Partiamo con la notizia che abbiamo scritto sul bianconero perché ci risulta che questa mattina Rui abbia firmato il rinnovo con la Juventus fino al 30 giugno 2028, quindi mi aspetto che, come è successo ieri per Savona, l'annuncio possa arrivare oggi per questo ragazzo che si allenerà con la prima squadra, proprio come Savona, e Azic sono questi i tre promossi, la Tiago Motta in questa fase del precampionato, poi vediamo se la lista si estenderà, ma le indicazioni che abbiamo sono nette e soprattutto contano le notizie e, come detto, dalle vesciche che abbiamo effettuato ci risulta che Rui oggi abbia messo tutto nero su bianco, terzino-sinistro, classe 2004, vedremo se troverà spazio in prima squadra o comunque deve fare un percorso. Sicuramente è importante che Tiago Motta cerchi anche di capire su quali giovani poter fare affidamento e no. Per il resto dobbiamo fare un passo indietro perché il video che ho pubblicato questa notte, praticamente, o meglio, girato questa notte e pubblicato questa mattina era già abbastanza chiaro, come sul fatto che si stesse perdendo Todiboh, dopo il blitz avvenuto ieri da parte del direttore tecnico del West Ham che ha convinto il giocatore, a livello di inizia c'era poco da convincere perché da tempo comunque il club francese ha dato la precedenza all'offerta degli Hammers che era più solida, che era più affidabile rispetto a quella della Juventus perché le condizioni della Juve erano state modificate, avevano portato con il blitz di Giuntoli e Pompiglio nei giorni scorsi a Nizza a pensare concretamente che da un momento all'altro potesse arrivare sì, poi però ti incaglia ancora sulla percentuale sulla futura rivenita, su qualche bonus e credo che anche lo stesso Todiboh a un certo punto si sia un po' spazientito e abbia deciso ieri di aprire al West Ham con tanto di blitz e direttore tecnico del club inglese e poi l'accordo definitivo. Ovvio, ma anche sottolineato come la Juventus per Todiboh si esponeva attorno ai 2 milioni più bonus netti a livello d'ingaggio, il West Ham pare che viaggi al doppio, quindi è normale che se ti offrono 4, anche se in un posto non vuoi più andare, non ci volevi andare in tono originario, insomma ti fa ingolosire, lo capisco, ma non ne faccio minimamente una colpa a Todiboh, in questo caso onestamente non mi è piaciuto come abbia agito la Juventus, lo dico sinceramente perché qua non è un canale di proprietà della Juventus FC, non sono di propaga della Juve, per cui se c'è qualcosa che mi piace elogiare lo faccio, ne parliamo, ma viceversa quando andrò vesce una medaglia, quando le cose non mi piacciono lo dico senza peli sulla lingua, perché comunque su Todiboh la Juventus ha lavorato tanto, oltre un mese, ti avvicini, vai a fare questo blitz a Nizza e poi torni senza il calciatore o comunque senza gli accordi definitivi, nel mercato ti puoi aspettare davvero di tutto, quando noi abbiamo raccontato nel tempo cosa è accaduto Axel Bitzel che davvero era in corso a Gado Ferralis a mangiare la pizza con Beppe Marotta e poi si è preso un volo ed è rientrato allo Zenit, quando abbiamo raccontato di Draxler, che era praticamente fatta la Juve e poi in una notte si è inserito, chi aiutatemi vuoi, il Fosburg offrendo di più all'entourage del calciatore e ciao Juve, il famoso scambio Guarin-Vucic, insomma il mercato ci ha abituato a tantissime sorprese e quindi devi essere sempre, 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 sempre sul filo del rasoio finché non hai le firme e molte volte anche quando hai le firme non puoi stare tranquillo finché non depositi proprio materialmente i contratti. Quindi su Todiboh onestamente faccio fatica a capire la strategia della Juve, perché era il giocatore che volevi, poi magari in futuro verranno sbugiardati i giornalisti che avranno, magari sarà la colpa loro, che hanno associato troppo Todiboh alla Juve, la Juve non l'aveva in testa Todiboh. Tendo a pensare che non sia così, altrimenti due giorni fa non ci sarebbe stato il blitz di Giuntolianiz. Però ora è tosta, ora è tosta perché, attenzione, non è che il mondo si ferma Todiboh, è pieno di centrali, magari ci va anche bene ne prendiamo uno più forte. Quindi non è questo che mi preoccupa, non è il valore del calciatore, è la strategia. Perché se lavori così tanto su una pista e poi 24 ore ti salta, qualcosa non ha funzionato. O in termini di attenzione, o in termini proprio la strategia a livello tattico stessa, poi può anche stare che nella maniera più assoluta che tu decidi di fare un passo indietro perché hai fatto tu un passo in avanti per quanto riguarda le condizioni in confronti del Nizza e quindi nella tua testa comunque hai fatto il grosso e non vuoi proprio perdere tutta la linea. Però poi alla fine della fiera quello che ci dobbiamo chiedere è Todiboh, sarebbe servito? Sì. La Juventus vuole la Todiboh? Sì. Alla Juventus serve un difensore centrale. Sì, a maggior ragione dopo che abbiamo messo in una lista dei trasferibili Rugani e Tego Jalò e abbiamo anche venduto Dinausen. Quindi onestamente questa manovra su Todiboh non l'ho capita e non la capirò. Già circolano nuovi nomi, nuovi profili, vediamo cosa succede, vediamo cosa succede se la Juventus deciderà di andare su un centrale e con quali tempi perché oggi ne parliamo alle 16, vi aspetto sul bianconero. Comunque il 9 di agosto è vero c'è l'esposizione di Gasperini su Coop, però ora dobbiamo aumentare la fase dei fatti. Non che io non voglio dire che la situazione Todiboh mi porta a vedere tutto nero, tutto negativo, però ci deve responsabilizzare ulteriormente a completare questo organico. Non tanto in chiave quello che accadrà tra dieci giorni, cioè Juventus Combo, primo impegno ufficiale. In chiave è proprio chiusura di questa sessione, fino all'ultima ora disponibile. Quella è la deadline e dentro quel termine bisogna consegnare la mia squadra possibile a Tiago Motta. Ecco, se mi succede una cosa come è accaduto con Todiboh, significa che abbiamo delle difficoltà. Le difficoltà vanno prese, non sottovalutate, né minimizzate, nemmeno al tempo stesso ingigantite, però dobbiamo lavorare. Bisogna lavorare, 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 come sta facendo Tiago Motta, come sta facendo tutta la Juventus. Perché comunque anche ieri raccontavamo di come la Juventus avesse piazzato un altro giocatore, anzi ieri due, a che è in Svizzera e secolo in fase di indirittura arrivo alla Sampa. Però non basta, tutto ciò non basta perché ora dobbiamo anche toccare gli esuberi, quelli impattanti. Al momento che abbiamo deciso di fare, di adottare una strategia molto, 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 molto estrema, cioè mettendo alla porta 10-11 giocatori, bisogna velocizzare. Cioè il 9 di agosto qualcuno tra questi deve iniziare concretamente a salutare la continassa perché, ok, hai piazzato, regalato i cartellini di a che è fra botte ti sei tolto l'ingaggio, va bene così, ok, hai portato qualcosina nelle casse dalla cessione dei barbieri, ok, prendi qualcosina dalla partenza di secolo, ok, aspetti sempre che il Venezia possa risolvere la vicenda Tesman per poi dare loro alla cifra concordata già Nicolussi Caviglia. Va tutto bene, ma bisogna velocizzare, bisogna fare quel salto e quanto è accaduto ieri con Todiboh, comunque un po' di allarmismo secondo me è giusto che lo crei. Ma non allarmismo da moriamo tutti, non si può fare calcio senza Todiboh, sono tutti scarsi, non sappiamo più delle trattative, no, perché comunque questa è una società che alcune trattative le ha già chiuso, importanti, come Douglas Lewis, come Turam, ha fatto anche una mossa in 48 ore importante e che speriamo regali ottimi frutti con Cabal, ha preso Di Gregorio, cioè su certi giocatori le idee chiare ci sono nella maniera più assoluta e sono già alla continassa. Con Aziz ci sono 5 innesti, ma dal momento che mettiamo alla porta chiunque, anche giocatori importanti come Federico Chiesa a livello di esposizione di Tiago Motta, mi sembra che la linea sia quella, poi se cambierà lo racconteremo. Lavoriamo oltre un mese sul difensore centrale che era il piano B, perché il piano A era Calafiori, ma capivo, e capisco tuttora, che a 50 milioni non ci volevi arrivare o magari non ci potevi arrivare e hai deciso di virare. Ora in difesa siamo al piano C, siamo al piano C con due sempre in difesa da piazzare, Rugani e Tiago Jalò. Rugani che ha rinnovato poche settimane fa, messo alla porta, a meno che non ci sia qualcosa che non sappiamo, un po' strano, e Tiago Jalò, che lo prendiamo a gennaio per anticipare la concorrenza tra l'Ico Madrid e Inter e poi non vede mai il campo praticamente con Allegri e viene bocciato subito anche da Tiago Motta. Insomma, qualcosa non torna. Spero che... Dai, possiate scrivermi anche la vostra qua sotto. Fiducia, lavorare, ma lavorare, cioè lavorare, completare, fare i fatti. Ora bisogna aumentare questa fase. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella notifica, lasciate un bel like se avete voglia e grazie come sempre e ci vediamo alle 16 sul canale YouTube del mio amore.